...poggiare la squadra un po' più tardi, qui solo i suoi che vogliono cercare la domanda. Dopo il quattro augusto, la squadra Marco e Giampaolo, ma la squadra è ancora in modo più grande. La squadra è arrivata per noi. In comparazione con Manchester United c'è questa possibilità, perché la squadra Manchester United 2 a 1. Può far male perché giocando con i due mediani, loro non con il play, se gli va dietro le spalle... Ben intuito da Riccardo Rodriguez, che poi ferma il pallone. Non ci sono punti di riferimento. Pallone dentro, attenzione, Musacchio. Molto a sinistra, Senema Martial, potrebbe tirare e mettere in mezzo. Uh, che erroraccio di... Potrebbe tirare, attenzione, il tiro però non preciso di Pereira. A volte cercare sempre il passaggio a un tocco è un po' rischioso. Assolutamente, soprattutto una palla orizzontale di questo genere. Cialanoglu cambia gioco, ha cercato il colpo sotto, con i suoi piedi sensi. Può sembrare più facile, comunque è una persona organizzata. Attenzione al tiro! Tiro improvviso di Rashford, ma è preciso e puntuale. Poteva sorprendere. Attenzione, buona questa azione del Manchester, anche sul piano stilistico. Ponte con Casiliego che dovrebbe aprire per Piontek. Piontek in ante, potrebbe tirare Piontek. Perde l'attimo. Ecco Suso dentro per Riccardo Rodriguez. Guglielmo Tei mette in mezzo questo pallone, vediamo. Avanti il 97 del Manchester, potrebbe tirare ancora lui il tiro. E c'è il gol di Rashford. Troppo tutto facile per Rashford. È partito tutto dalla fascia, ne ha scartati tre, nessuno gli è andato contro. Troppo facile per Rashford. Sì, arriva il gol nell'unico modo in cui poteva arrivare, ovvero su una transizione. Perché abbiamo visto una palla persa, ha avuto campo ad attaccare a Rashford, poi è stato bravo a rientrare. È chiaro che sia calato o muovere la palla più veloce. Questo pallone lungo. Stavo dicendo trovare di più Suso. Attenzione, con questo tentativo su Castiglieco, fermato. Si libera Cialanoglu. Potrebbe mettere in mezzo. Attenzione, questa palla. Il Manchester, al di là del fatto che sicuramente ha un po' di velocità in più, ma anche nella voglia di andare a recuperare la palla mentalmente, abbiamo visto adesso come è stata sradicata Burini. Mi sembra mentalmente oggi fino adesso... Attenzione, pallone dentro. Troppo lungo, troppo lungo il pallone. Bernato qua, sulla fascia. Viene avanti Marziale. Pallone dentro. Svetta. Attenzione, il Cardellino. Potrebbe tirare da quella posizione. Il tiro. E la palla sfiora il palo. Ha avuto il Varco che ha avuto prima Rashford. Rashford un tiro un po' più... Tutto emisfero destro dove risiede l'intuizione. Pallone dentro. Suso. Tiro di Suso. Ed è gol. Il Cardellino. Cinguetta il Cardellino. Cinguetta il Cardellino. Cinguetta il Cardellino. Cinguetta il Cardellino. Cip, cip, cip. Cinguetta il Cardellino al minuto 25. Preciso come l'arshere di Sherpi. Che non è lontanissimo di qua. Gol prezioso come un gioiellino. Di Carfabergé. Vai. Pallone dentro. Per Borini che cerca di andare e riesce a recuperare una bella palla. Uno schema. Attenzione. Pallone dentro. Vediamo chi può andare. Colpo di testa. Mi sembrava chiaramente uno schema. Sì, allora... A mio avviso contro me. Vediamo. Pallone lungo. E chi ci poteva essere? Se non Borini. A guadagnare il secondo corner. Ha doti di poter costruire qui. Pallone dentro adesso per Piontek. Ma là c'è Castiglieco e poi c'è Borini. Sempre loro. E Piontek questa volta incolpevole sta avanti a quella parte. Attenzione. Giocatore più pericoloso. Pallone dentro. Questa volta la palla è fuori. Chiaramente bisillabo di felicità per la difesa del Milan. Calabria. Suso. Tra le linee vediamo. Pallone dentro. Molto bello. E c'è la parata di De Gea sul tentativo mancato di Piontek. Che ha creato problemi. Ancora un tiro. A Milan con... Suso potrebbe tirare. No! Rapido di Rashford. Attenzione. Pallone dentro. Poi interviene ancora. Aveva perso. Ora tenta il colpo. Attenzione. Il Milan con... In crescita. Vediamo il cross. Calabria molto bello. Cade a terra. Perreira 15. Ma anche Mata. Nicola. Niente. Niente. Unito. Podaccia сюда. Vibivano il gioco. Il gioco. Il gioco. Il gioco. Perreira 15. Ma anche Mata. Niente. Il gioco. 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 Ah. Unanimato. Ma anche. Ma anche. Il gioco. Ma anche loved golpe. Ma anche. Musica. Le gioco. Micero. И化 r평. To the size. A 뜨僧. Yeah. Maанek. Il gioco. Fiorcera. sulle lo presso 5 tutto ci sono scolibli si subito e non davo a peri daccio no show pretta okazza e l'eva e l'eva ricochet uglavo uspè Iscriviti la ricetta Grazie a tutti 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 Grazie a tutti